lupetto mangia solo pasta asciutta è l'ora di cena la mamma tira fuori una teglia dal forno che cos'è chiede lupetto la mia specialità dice la mamma un soufflé di prosciutto e funghi fa lupetto non mi piace e allontana il suo piatto la mamma grotta le sopracciglia prima di dire che non ti piace dovresti assaggiarlo magari ne vai pazzo no si ostina lupetto non mi piacciono i funghi preferisco la pasta asciutta e si tappa la bocca il giorno dopo lupetto rifiuta i pomodori ripieni e mangia solo un po di riso il papà cerca di farlo ridere fa il pagliaccio il gioco dell'aereo ma non funziona tutti i giorni è la stessa storia a lupetto non piace questo a lupetto non piace quello ogni pasto è una battaglia lui vuole la pasta asciutta tutti i giorni la pasta asciutta una sera lupetto rovescia il piatto perché non vuole mangiare i piselli la mamma e il papà si arrabbiano fila in camera tua e calmati dice il papà io e la mamma vogliamo cenare tranquilli il giorno dopo la mamma cerca di farlo riflettere hai ragione la pasta asciutta è buona ma per stare in salute devi mangiare un po di tutto e non solamente quello che ti piace capisci a me piace la pasta asciutta ripete lupetto più tardi lupetto il papà cucinano le lasagne lupetto dispone gli strati di pasta nella teglia il papà aggiunge il ragù e alcune piccole verdure ah no protesta lupetto le verdure non mi piacciono vedrai quando le assaggi dice il papà ecco le lasagne sono pronte che profumino però lupetto è sulle spine si domanda se gli piaceranno lupetto assaggia le lasagne sono deliziose e ne vuole ancora ah no le lasagne sono per me lo prende in giro il papà hai detto che non ti piacevano le verdure le verdure fanno bene alla salute risponde lupetto e se ne prende un'enorme cucchiaiata fine